Vieni a casa mia stasera? A fare cosa? Le polpette! Che lavoro fai? Trafficante di organi! Criminale! Ma non ce l'hai un cuore? Ne arriva uno mercoledì! Perché il suo bagagliaio è pieno di queste bottiglie? È solo acqua di Lourdes! No, questa è vodka! Davvero? Miracolo! Stasera ti voglio sexy! Sei sempre il solito porco spino! Padre, ho seguito l'insegnamento del signore! Ma adesso ho problemi con mio marito! Perché? Cosa ha fatto? Ho amato il prossimo! Le devo fare la multa! Non può tenere un cane nel sedile posteriore! Ma agente, è un peluche! Non mi interessa la razza! È meglio che non entriate dentro di me! Io sono la lavatrice Tentation Island! Ovvero? Ovvero che entrate in coppia e uscite single! Lei non può parcheggiare qui! In questa piazza passano i politici! Non si preoccupi! Ho l'antifurto! Sei stato in coma per tre settimane! Ricordi cosa ti è successo? Sì, ho visto la luce! Il paradiso? Ma che... Ho visto la bolletta della luce! Come mai hai quella parrucca nera? Adesso sono un cantante! Bruno Mars! Lei è passato con il rosso! Scusi, sono daltonico! E allora? In daltonia non avete semafori? Ti amo! Anche io! Siamo due piccioncini! Se io ti regalo tre gatti, poi altri tre, e poi altri tre, quanti gatti avrà in totale? Dieci! Hai sbagliato! La risposta è nove! No prof! Perché io ce l'ho già un gatto! Io sono il protettore dei gabinetti! Come ti chiami? San Italio! Wow! Un pappagallo! Wow! Un pappagallo! Sei tonto! Sei tonto! La panna sulla carbonara ci sta bene! Sei tonto! Mi racconti una storia lunga? Perché la chiedi a me? Sei uno storione! Lei è un tipo in gamba! Potresti evitare di farmi ricordare che ho perso una gamba? Mi scusi, chiuda un occhio! Lei è una persona alla mano! Qual è la tua trasmissione preferita? La stessa del serpente! Ovvero? Striscia la notizia! Un zucco al fico, per favore! Mi dispiace, non ce l'ho! Ma cosa ha capito? Il fico sono io! Chi ha fatto fuori Kenny? Zombie o Enderman? Scusatemi, mi prude il sedere! Stavo raccogliendo mirtilli rossi! Ciao! Volevo avvisare tutti i muri che hanno acquistato sfida all'ultima battuta di stare attenti perché è un libro molto pericoloso! Fa crepare dal ridere! Ciao! Grazie! Grazie a tutti